E' andata bene ma la rapina poteva avere conseguenze ben più gravi. Tre banditi incappucciati in azione alla periferia di Martina Franca sulla strada che conduce a Cisternino. Hanno atteso, imboscati, l'arrivo di un commerciante per rapinarlo. I malviventi sono entrati in azione al di là del cancello che dà ingresso alla masseria di Vincenzo Olivieri, cinquantenne commerciante di giocattoli. Hanno prima fermato e bloccato un suo dipendente, giunto da solo in auto legandolo ad un albero. Poi quando Olivieri e la sua compagna sono arrivati nello stesso punto, a distanza di qualche minuto, a bordo di un'altra auto, hanno bloccato anche la coppia. Uno dei banditi, armato di pistola calibro 7,65, ha esploso un colpo che ha ferito la donna al ginocchio sinistro. Quindi i tre malcapitati sono stati malmenati, costretti ad entrare nella villa ed a consegnare ai malfattori la somma di 12.000 euro in contanti. I banditi sono fuggiti a piedi nelle campagne circostanti facendo perdere le loro tracce. Tutte e tre le vittime hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale di Martina Franca. La donna, con il proiettile ritenuto nel ginocchio, non avrà gravi conseguenze. Sull'accaduto indaga la polizia.